Un gesto di vicinanza, rispetto e sostegno verso una realtà che ha l'urgenza di guardare avanti, come ammette il sindaco Stefano Petrucci, accumuli ancora una zona rossa. Se grazie alle soluzioni abitative di emergenza alcune persone sopravvissute alla tragedia del terremoto hanno trovato una sistemazione quantomeno dignitosa, vivere la quotidianità con leggerezza non è affatto semplice. Per consentire ai residenti di distrarsi un po', la giunta locale permette a chiunque di assistere alla consegna delle Bene Merenze Econi 2016 per la provincia laziale, un evento organizzato per consentire agli abitanti del posto di assaporare la normalità, condizioni non proprio all'ordine del giorno, ad accumuli. Ben quattro le stelle al merito sportivo consegnate durante la cerimonia. Se quella d'argento è andata al patron del rugby rieti Bernardino Giovanelli, le tre di bronzo sono state conquistate da Fabrizio Formichetti della FIGC, Roberto Dominici della FICC e Maurizio De Marco, vicepresidente reatino della FIDAL. Momenti di serenità che fanno bene da ripetere più spesso.